Il risultato era la cosa principale, oltre a quello è venuto anche il gioco perché i ragazzi hanno fatto una grandissima partita, quindi sono felice perché la partita era molto difficile, occorreva avere pazienza, potevamo sbloccarla, l'ho detto ai ragazzi anche all'ultimo minuto, però dovevamo giocare oltre con il cuore e con la testa, quindi nel secondo tempo abbiamo sfruttato le occasioni e sono felice soprattutto per i ragazzi.